Va bene E qui è bello perché non ci sono mai stato È tutto nuovo per me Sì questa era la zona nuova E ti ricordi c'era pure l'altro lato Dove c'era quel suono strano Questo è perché siamo andati avanti per salvare Sì Però scendere le scale guardandola di spalle È un po' uno spreco in hunting ground Ok No non è vero Non c'è niente da fare No Tornami indietro C'erano due le strade Non erano due le strade Erano due E mi sa che si passava da qua C'erano dei segreti eccentrici Le avevamo fatti tutti Ma di solito erano vicoli ciechi Ah no è vero No vedi erano due strade È vero infatti ok C'era questa guarda Ah ma qui era Questa era davanti no? No allora Davanti io non mi ricordo cos'è davanti Ah ok se non lo sai allora vado io qua Lui è quello che abbiamo dato È quello che ha preso la Level Palesemente non blind lui Cioè il bello è che io tra l'altro a destra Il russare di Ugo Che fa un 3D incredibile Fa proprio esatto Esatto Crao Craonesto Grazie Se arriviamo al perfetto numero palindromo Ugo Mostrerà Ma questa imbecille non riesce a Ora Stai un po' chiedendo troppo A una A una bionda Naturale Comunque Ok Però aspetta Sta arrivando il Mi sa che è sotto Eccolo Eccolo Io sono quasi tentato di mettere Il costume sexy comunque Ormai abbiamo giocato abbastanza Con il mood No No perché Tu non sai come avanza la storia Potrebbero esserci dei cambi d'abito Oddio Ha saltato o si è ritrasportato? No ha saltato Ha saltato molto male Ma ha saltato Poi pettalo mi raccomando Aspetta Aspetta il ca... Oh no Non funziona così Sta ringhiando Si ma non a te Oddio Forse era uno shortcut quello Oddio Esatto Si si ma il volume Il volume del gioco è sparatissimo Alza quello dei nostri Eh ma il nostro Su me non è basso Vabbè comunque Ah si comunque il gioco Ha un volume altissimo Ma scusa ma in questi casi Cosa? Cosa? No Ancora non c'è la musica comunque Eh ho capito No 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 Eh però se sta in mezzo Tanto non mi ha visto Si però se passa e ti tocca Eh vabbè non mi toccherà Mi sa che t'ha visto tantissimo Oddio come corre Si no ma è Ma l'hai potenziata Ah lo specchio Non importa Oddio Stai andando in posti nuovi così però Oh mio dio C'è un uovo nudo Che guarda che leccale statue Che pordello C'è anche uovo nudo C'è anche uovo nudo In tutto questo Perché? Vabbè accelerare Anche accelerato non carica la musica No che palle Sì ma che palle Io te l'ho detto Io te l'ho detto Che era l'attura di palle È velocizzato eh L'ha fatto lui Vorrei fare L'ha fatto lui Il limite di frame Praticamente se posso fare Se posso fare una battuta Finalmente da Content creator Che è un po' uscito dalla sua bolla Per quanto ci rimanga sempre con la tensione Tra Questo tipo qua sopra Il gatto che russa in questo modo La stalker assassina Il tizio nudo che lecca le statue È praticamente uno dei giorni Della maratona di Dario Moccia Ragazzi questo È così Secondo me è un esempio perfetto Della maratona In alcuni momenti Abbastanza caotici Io ho visto il best of Quindi qualcosa del genere È successo mi sembra Allora È così È così assolutamente C'è anche tipo L'astronauta E ho capito Però Lei pesa 97 kg Comunque Un passo pesantissimo Allora Madonna mia Però Il tizio nudo Così Capito E lei non reagisce? Perché cercano sempre di nascondere tutto in questo modo? Per la polvere Signorina Cioè Niente Non puoi neanche interagirci Chi Ammazzalo Da rega Cercane Dette al cane Scusa Ma è il cortometraggio Uomo viene colpito Da una palla Da rugby Nelle palle Almeno non ha fatto I suoni Dei source Perché era in questa storia Va bene E non cambia nulla Super tick lui Va bene Eh sì Non è molto presente A se stesso Mi sa Ok Ok Questa cosa sta prendendo una strana piega Comunque Oddio Oddio Fai attaccare È Ugo Aspetta 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 Attento Ma è tipo una mandragora Che cammina Esatto Sì Hai capito Sì sì È la versione Avanzata Sì si è sciolta Il rumore Che c'è stato Che è stata Che si è Dissolta Io me ne vado Comunque l'ho sempre detto Che vorrei un castello così Eh raccoglilo uguale Che ti frega Va bene Però riapri le porte O no Miss Asos Oddio Sì ma devi muoverti signora Cioè Minchia Che stilettata Non giocheresti così Dopo otto ore Oh merda Io mi fai qualcosa Ti prego Ti ha visto tantissimo Eh vale Tocca farla Lenta sta cosa Il cane è morto E ignora Con tantissimo il tizio Comunque Oh Sei Poi lei è di ferro Comunque Porca miseria Sì No No è la Lavanda Non ho più Quindi La cipolla che fa No La cipolla La cipolla In testa L'ammazzi Eh devo andarcene Non ne vale la pena Ok 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 ma zoppica Già Ammazzola Accompala Vado a rompire Sì Devo analizzare una volta A posto ce l'andiamo Questa si alza Bastarda Quindi quando Sì però il fatto che il gioco Non ti distingui Quando hai script Che non puoi morire E quando si Vabbè rilassa che hai vinto Comunque L'hai presa a calci Ti sei allenata Sullo scroto del signore Quindi qua non posso fare niente Chiusa a priore Però c'era un oggetto Mamma mia però Beh in realtà In realtà Se non è il reggisone È realistico Che ballino così tanto Ma non ho mai detto Che fosse un bifetto Non mi permetterei mai E anzi Trovo che sia Un enorme problema Lo scroto del signore Dell'industri Che non tutti facciamo Dovrebbero ballare Anche quelle di Chris Dopo quelle di Chris Allora Se mi permetti Cioè Piccolo trivia I pettorali Quando sono troppo grossi Ballano comunque Se non sono contratti Comunque carne Tra parentesi Lì c'è la porta Eh sì Ma qua non ci siamo mai stati Sì però Se anche Pessarli meno Sti piedi Grazie Ma questo è tipo Un Big Daddy Separando il platino In due parti distinta Sintetizzandolo Con il sacro bianco Si può creare Una nuova sostanza spirituale Il sentiero che stai percorrendo È più che mai pericoloso Tuttavia Se non vuoi che il sacro Venga imbrattato di sangue Dovresti terminare qui Il grande processo Ok Un sintetizzatore Viene tenuto in questo suo luogo Oscuro e spaventoso Sembra uno di quegli strani Macchinari che usano Gli scienziati pazzi Voglio tornare a casa Però lei è davvero Cioè lei è un sintetizzatore Capito? No ma fatemi a stupito Va bene Aia Si alzi signoria No Aspettila Oddio Ecco Ecco su cosa usavano Il sintetizzatore Qui hanno cercato di imitare Quell'incredibile momento Di Silent Hill 2 Ma non proprio Ah dici Eh Si si Ma quindi ti devo obbligare io A giocare Silent Hill 2? No Li rifiuterei Devo aspettare Devo aspettare Oh meglio c'è il remake Premi F1 Sei sicuro? Ho salvato Cioè non è che ti obbligo a fre... Ho salvato Sia chiaro Quando lui ha tolto il frame Il limite di frame Velocizzando il gioco Io neanche mi ricordo il comando Per farlo Ok Comunque Ah certo Quest'aria è fighissima E' quasi doloroso correrci Perché è molto bello da vedere C'è un quadrante Collegato a questa specie di conduttura Certo Interagiamo Ok Se fai giù No grazie Ok Dovina Ah no Le Lance Edition Tutta bella pacciata Pronta Pompata Eh lo so Lo so Il bianco L'abbiamo visto nella zona alchemica Però non credo sia quello Questa si apre in teoria Ok Che senso abbiamo visto il bianco? Il bianco è uno dei colori elementali Del sintetizzatore Che abbiamo nelle sale di save Diciamo Di sicurezza Lavanda Oh madonna Questa è una roba completamente antitetica Quello che abbiamo visto prima d'ora Eh Pulito Moderno Metalli Chissà che serve Spero che quest'acqua non mi faccia star male Nel dubbio Ma sei scema? Bevi questi Vediamo se ti fanno star male Sostanze chimiche Etanolo Ah che rine tutte queste Interazioni Non esplode se non utilizzi il fuoco C'è un macchinario che forse viene utilizzato per pesare Ma cosa? È chiuso Ma che bello che ci prova Oh comunque è incredibile la quantità di interazioni Sì sì E pane Esatto Ah ah Pia E pia Acido acetico Ho capito Ciapa C'era anche un neonato Attenzione Per sviluppare l'asovat Nei feti Ah 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 Vabbè Ha la vaga impressione che ci siano strumenti moderni in questa stanza La sua capacità Oh solforico Questo è acetico Quello è solforico Acetico Solforico Ne manca uno Ma non posso farci niente Oh no Eh sì Io non sono riuscita a sbarrarla a sto stanza la prima volta perché è entrata la tipa Vabbè chi se ne frega Chi se arriva arriva No che se no Posso fare qualcosa Quindi vai Ok Solforico Acetico E basta Vediamo che non ci sia qualcosa qui Yes Yes Eh no perché sei comunque si avvicinò per aprire la porta Non è il caso di metter Di chiudere Quindi Se ti vuoi nascondere non è il caso di mettersi vicino le Oh no mi ha visto Eh t'ha visto Tenta a non prendere il cane No è stata lei È stata lei eh Non l'hai preso tu Che combat system amici Ti faccio giocare a Rulov Rose poi Questo è Devil May Cry a confronto Madonna Ma Devil May Cry 5 No no Devil May Cry 1 Non so piega È più resistente Se ne sta sbattendo completamente dei danni stavolta Quel dolore forse era zonato No no sente niente Che poi risente il dolore Vabbè ma le ossa si dovrebbero rompere comunque Il sangue esce Cos'è F4 No no ma che F4 ce ne diamo No l'ho turbo fregata Andiamocene da qua Non è lo stesso quindi Ma era un ciclope Quello teschio No è un po' girata la textura Ma sembrava un ciclope Eccoci Comunque si fa la corsa sui gradini Che è un piacere Allora ti ricordi Ti ricordi avevi trovato comunque un libro La cattedrale Questo è un altro Perché hai fatto questa cosa? Sapevo sai che avevo equipaggiato un oggetto Ok L'hai letto che c'è scritto? Sì 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 certo C'è scritto Si prego d'altra voce Ok Un ricco libro di simboli alchemici Tutti accompagnati dalle relative spiegazioni Nicolai Framel È stato lo scrittore Perfetto Ok Questo è per spingere Questo è un simbolo alchemico Forse c'è Penso che tu questo vuoi si possa salire No Non puoi mettereci via lì No però ho un carrello di libri Eh sì esatto Eh E poi ci sono queste librerie che sono Su dei binari Non credo che si possa spingerle io stessa Qualcuno ha sparato al cane Un po' troppo straight forward penso ma Posso? Cosa? Non l'hai visto? No Cosa? Voi l'avete visto ragazzi? È quello che penso io Ho visto Voi l'avete visto? O no? Spero che Spero che sia un'impressione Ho visto Un fotogramma Io non l'ho visto niente Avevo un brutto presentimento Che è entrata la tizia Sì Ah no è il cane Madonna Capito? Era Ovvio Bene esatto Beh mi sa che la grippa non ce l'ho Furcanelli Controlla meglio Controlla meglio E ce ne saranno altri Questo è furcanelli Questo significa che stiamo perdendo tempo però Perché Non ho la grippa Eh però Controlla bene Eh ma infatti Mo cerchiamo di rilevare librerie Ma tu il carrellino proprio Non Non lo vuoi spingere Dammi tempo Guarda che tossicità È incredibile Mi lascia esplorare la mappa Come voglio io Allora Devo spostare Adesso lo sposto anche indietro Oh no Non c'è spazio Oh Allora Va bene Agrippo Agrippa Guarda che gioca veloce Perché non vuole giocare È obbligato A me diverte un sacco Di risolvere i puzzle Efficacemente Mi sembra tutto un po' Troppo Complesso Per Salire a un piano successivo Però va bene Ugo però sta diventando Sì Perché a volte Si gira un po' E si schiaccia La gola E si è russare Che è grasso Sì Ah Questa è la porn room Ovviamente Chiaramente La porn room Non è che c'era dubbio Good boy È la pellicola lì davanti a te No Va bene Ah Mi sa che Crash No Non è il dubbio Cos'era Mi ricordo Ah non lo so 5 Mi sa Non lo ricordo più Beh nei filmati Non serve C'è pure un C'è pure una Un penning Quindi C'è pure lo zoom Chi ha zoomato Sta cosa Il potere Della via C2 Ragazzi Sì l'ho visto L'ho capito Ho capito Sì ma tu Non sei Fiona Strana Zoomata Anche quando ti sei cambiata Sì Ha aspettato Tra l'altro Sì È stata molto gentile E quella parrucca Ci hanno tremato le tette Per la paura Why are you after me What do you want Essence 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 ah chiara grazie 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 che è successo date in un momento ok andiamo va io vado no perdona come muore che si è chiusa la porta dietro no che fai devo chiudere la porta perché devi chiudere la porta grazie volevo provare a salire no volevo provare a salire la scala vedere che succedeva però e rimanere a metà grazie comunque sono sceso che ti prende basta tu pensi che questa musica sia fastidiosa merda c'è tu pensi che questa sia la musica fastidiosa andiamo andiamo com'è ma mi dava aspetto se non mi ricordo qual è il comando per abbassare la risoluzione non ricordo eh ma questo è un problema non lo ricordo più manco io pensa usa il cello google a un secondo io non l'ho mai fatto cioè sì tanti anni fa l'ho fatto su resident evil 2 ok f9 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 no perché se crashava bisognava o no no non era qua era altro lato questo è uno shortcut fuori ti prego comunque secondo me il rumore dei passi è troppo forte vabbè tra le sole di metallo per fare questo rumore dove cazzo è allora perché qua sopra c'è il laboratorio ah no c'era un bivio qua è vero poverino mamma mia pazienza ma anzi non si sta in secondo più aspetta non so se è fatti non lo so eh ok non me lo ricordo vabbè vubarina of time ok nooo ahah ah ok saliamo prima io salvo sempre vediamo la psicosi va bene e Riccardo dov'è? ecco lo spero io no oddio per niente rincuorante quindi sabaco ha conosciuto sfigardo? manca nennio però non volevo prendere quelle rosse facciamo che vada cantil cane che dici? ma voi vogliamo uccidere il cane? il cane sa differenza tua come il cane sa? eh la l'avevi già fatto un enigma del genere? lui sa la strada come cazzo fa a sapere la strada? perché lui sa le cose solo che dovevi stare a guardare bene come fa a sapere la strada perché gliel'ha detto Psecomantis chiaramente si è collegato a Psecomantis ai ricordi di Psecomantis qual è l'indizio che dovrebbe farmi capire che il cane lo sa? una cosa è il cane al buio che fa la strada? eh no il cane al buio il cane al buio sa dove camminare perché vede meglio sì ma sente il pericolo capito? è ovvio palesemente perché invece la trappola come la doveva vedere all'inizio con gli occhi e le frecce come fa a sapere che c'è una cosa pedana a pressione che attiva una trappola mortale dall'inizio del gioco come fai il cane a sapere che c'è una trappola? vabbè lui sa le cose lui ha parlato con Psecomantis e dai facciamo vivere semmo così che dici toccalo tocca toccalo toccalo un momento di aha chi piange? questa trappola si potrebbe evitare anche abbassandosi ma Fiolona non lo sa risalzo sì vabbè è la trappola più stronza della storia praticamente comunque è tipo ok abbiamo comunque saltato una strada completamente me lo devo ricordare ah sì? eh sì ok addirittura la luna è quasi piena è piena è piena Sì. Non può essere naturale. Ha deciso di non scappare la nostra protagonista oggi. Il cane sta palestamente giocando comunque. Il cane sta palestamente giocando. Ehi, che fai? Tu devi puntare alla gola, stupido cane. Questa cosa è bellissima. Come si gira è bellissima. Uo, ma... Ma è Twitter. Ehi, che fai... Cucca! 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 rotta infatti come vedi anche tu hai carne e sangue oddio! quindi non devo ucciderla devo trovare il modo di salvarla runza! devi fermarla però con calma con calma fai fare l'attacco caricato così lo tiene fermo più a lungo devi fare seduto lo so lo so ma ti ha dato uno schiafo non si carica non farti colpire non farti colpire per carità questa cosa che le vengono le crisi comunque a distanza è molestissimo abbassa un po' il volume ricordati che anche le trappole comunque si 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 stiamo mettendo un po' ok inquadratura mi ha fregato si inquadratura l'ha fregato si oh no mica è morta no no Yui Yui dai porca puttana però dai vabbè fai un altro che palle il fatto che possa body bloccare sta cosa è folle paura che lei te la blocca pure altro che se lo fa falla falla allontanare e lasciami stare perché mi sta perché non corre sta bimba adesso ok perché no madonna però non spinge cioè ha fatto così due volte senza spingere minchia i pezzi di tetris dobbiamo fare ok forza forza si è messa proprio in posto peggiore lei most oh vai 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 no vai dai 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 ovviamente ecco ora diventare una bambina vera madonna ecco per far capire no aia bad ending mi sa la logica di questa cosa non l'ho capita benissimo però va bene me la spieghi oddio non hai mai ucciso nulla fino ad ora ragazza ma ha letto l'altra cosa non l'hai letta non ne sta leggendo niente cioè ad alta voce no intendo dire che lei dice che ha dovuto uccidere no per sopravvivere non è esattamente così ma perché il gioco dà per scontato che tu esatto sì comunque lei mi sa che deve morire per forza comunque presumo perché aveva fatto una cosa abbastanza no perché solo cioè comunque Debilitas era innocente a modo suo cioè lui non voleva farti male non ha fatto un suono alla stanza della trappola qua dice Giulia di nuovo ha piuttosto qualcosa i peli dritti sulla sua schiena non fanno proteggere nulla di buono però è male sì no quando mi sa che quando è pestato la prima pedana attenzione chi mai ha visto la porta di Marte chiusa ah forse è nel posto non esamini un frammento di vetro l'ha trapassato il corpo frammento non pensavo che sarebbe finita in questo modo terribile qua non c'è una goccia di sangue comunque però allora forse allora forse cosa cosa io so che ho una strada ancora non percorsa quindi la porta allora se ho beccato la strada giusta mi sono risparmiato un po' di backtracking è ottimo perché in teoria a questo punto mi aspetto anche per la struttura vuoi vedere la chiave la forma della chiave no ma non importa perché la forma della chiave è Marte il fatto è questo che ci sono dei luoghi in questo castello che hanno canonicamente le porte non ho fatto manco le coccole al cane il cane deve lavorare come deve fare vedi qua sotto non ci sono mai stato ci sarà Marte qua sotto dai che c'è Marte dai io mi fido io non mi ricordo mamma mia che grande let's go cane bella la lucina dell'acqua che brilla allora si un frammento di vetro comunque si si un frammento oddio una mandragora oh e finalmente va bene vabbè si ste cose ti bloccano fanno rumore ti fanno alzare il panico fondamentalmente pettalo un pochino porca miseria anche una gioia quel cane si vabbè allora noi qua abbiamo la perfezione abbiamo il potere infinito quindi ecco sei pronta salva e facciamo quello magistrale si però tu non lo faresti oddio ma perché l'hai fatto partire non lo avevo salvato perché pensavo l'avessi fatto hai tolto il dito hai messo il dito allora ricarica tu però non lo faresti se mi stai obbligando questo è quello magistrale devo prendere l'oro forse per essere magistrale ma è complicatissimo questo l'oro ti ho detto che è bonus eh lo so ma se faccio oro questo è magistrale che aveva il simbolo d'oro no se lo so cambia la probabilità dei colori che escono ho sbagliato fallo di nuovo di nuovo ok salva carica 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 salva carica 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 salva carica 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 quasi ricarica salva carica grazie Zaron grazie carica come carica eh sì adesso carica 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 salva carica questo lo prendo con d'oro carica salva carica carica ah vabbè minchia ho le scarpe detonanti e Zaron grazie del supporto anche a Fenrir a posto magari Zaron segue solo me se ho detto anche a Fenrir è perché è un investitore di Furee di Sottorema tu che ne sai magari un altro con lo stesso nome nooo non voglio farlo ah ma grazie Emanuele eh niente allora devo prendere Ugo che cos'hai fatto? no ne avevo uno consumato scusa un secondo devo prendere Ugo aspetta è arrivato il gol numero perfetto è stata la salmon di Ugo per un secondo è arrivato aspetta Ugo devi fare contenuto ho le scarpe detonanti noi oggi dobbiamo anche la maratona di finale probabilmente vabbè se hai fatto questa cosa devi prima devi essere un po' più content creator premiante devi metterlo a favore di camera sta dormendo tantissimo devi metterlo a favore di camera nella sua totale morbidezza lo tengo da sotto si madonna quanto pesa sto coso fai vedere la pancia tocchiamogli la pancia guarda come dorme sta dormendo tantissimo sta dormendo mettilo a più favore di camera no no fa camera di lì ecco fallo avvicinare ecco guarda come dorme facciamogli la coccolina madonna non pesa troppo sta roba mia 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 non ce la faccio più ce la faccio più cioè guarda come mlemma ma che si lamenta ma figare ti pare che si lamenta ugo stava talmente dormendo che non ha capito niente ugo io sto dai andiamo un po' avanti con l'endgame assoluto si andiamo un po' avanti ho l'invisibilità e le scarpe dei donanti devi vedere un secondo qua vai un attimino avanti grazie per il supporto comunque oh mio dio vuoi gli faccio esplodere le palle te lo sei meritato comunque è fantastico cioè questa cosa potrebbe essere una clip da mettere su un image board ok allora guarda ragazzi ho tutto la collana gli orecchini e le scarpe detonanti endgame però che non è esploduto nulla eh ma se leggi un secondo magari ti spiega che cosa sono c'è scritto che devo colpire può esplodere che può esplodere ho capito 4 calci non è che esplode si però mi sa che è crashato il gioco perché non mi ha dato il secondo di salvare ah no non è crashato il culo ecco vabbè lui è buono non è Usate Ok Non era un Wench Ok No L'abbiamo fatto Ancora più molesta No questa è bellissima Sì lui ti sciotta Se ti prende Ha una mira di merda Ma se ti prende ti uscite Quindi stai attento Non giocarci troppo Devo menarlo Chissà che troppa lui Esploso esploso No No Porca puttana Il cane Lui metterlo Hai preso due volte il cane E lo so Ho capito E' il cane che rompe il cazzo In mezzo a me Do io Ma è sgrazie Ti ho detto che ti uccide Ho capito ma perché i cacci hanno smesso di colpirlo Ah sì Va bene Ok Aspetta Non era così Aspetta Acta est fabula No Levati Non starei davanti Sì sì Lascia Beh Dico di tutti i posti in cui ti devi mettere a combatterlo Nell'unico angolo cieco in cui il nemico non si vede Giusto Perché ero riuscito a incastrarlo Esatto Esatto Oh 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 L'ha visto tantissimo Oh Oh Beh Here È l'ora del tè Guardalo Lo stormtrooper Sì vabbè lui fa troppo ridere Comunque come Non mi ha colpito mai Questa è la meno fastidiosa di musica Almeno È meno fastidiosa Tu aspetta Prima di dire che è meno fastidiosa Sì sì C'è ucciso con la pistola Nel senso che ci ha proprio menato con la pistola Poi la cosa carina di seguirlo è che magari a volte puoi anche vedere la mappa Magari va in zona Certo Esatto Madonna buttiamolo giù Niente Per me viene comunque In realtà non è dolore Carne di pollo Vabbè Non esplori dietro? Eh mi sa che non serve Perché dietro abbiamo soltanto Vabbè è carino C'è il tizio La scala no? Vediamo un po' Forse è qui No C'era la vaschetta Le cose Ah giusto c'è questa stanza Non ma guarda C'è la cosetta Ne hai già visto uno Esamina la La vergine grassa Il sintetizzatore La vergine grassa Sta arrivando di nuovo Che palle Estrattore Generato dalle turbinanti sabbie del caos La prima materia inizia a ricomporsi e in breve tempo si trasforma in un immonda massaggio all'astra Quello che ricerca la fase evolutiva successiva non deve smarire la via della purificazione Ok Adesso anche Riccardo mi dice che devo restare in questo castello Ma non sono così stupida Va bene Un'estrattore Non vorrei sembrare banale ma forse sarebbe restare qualcosa Temo che serva per restare Da quella donna All'interno della cassola Ma non voglio È una donna? Quanto pare Va bene Va beh Certo Quindi sono delle campane Ok Però qua c'era già l'altro Oddio santo sto cane Che cacchio? Di posto è? Qua c'è stata un'esplosione terribile Oddio santo Decompositore La fase iniziale del grande processo non richiede una manipolazione del caos primordiale Affida la prima materia all'estrattore Il cammino della divina pietra Oh la pietra filosofale A metà strada lungo il sacco del cammino Se il risultato della conoscenza non è altro È come un mucchio di cenere Torna in questo luogo L'uomo è un animale imperfetto Ma per fortuna è anche disposto a redimersi E per questo niente è ancora perduto La cenere genera il caos E il caos genera la vita primordiale Ricorda che il grande processo inizia sempre da qui Va bene Ok D'accordo D'accordo Troppo complicata per me E va bene Carino però che ci prova a pensare Qui sono stati abbandonati gli strumenti Dice che sono malandati Che lurida bestiaccia Quel danato cane è riuscito a svinarsi Con la prima materia che stavo raffinando nel decompositore Cioè ho messo in infinità a stabilizzare quella maledetta sostanza E quel bastardo me la prende e scappa via Tuttavia non c'è alcuna necessità di recuperarla a tutti i costi Certo è uno degli ingredienti fondamentali del processo di creazione Ma ora non ho bisogno impellente di divine pietre Visto che presto metterò le mani su una fonte di potere smisurata Ah mio adorato Asoth Sei davvero splendido Un'opera d'arte Deve essere mio Questa infernale attesa mi sta sennervando Beh Sì è un po' strano È stato di Ui a rubarla Chissà se l'ha sotterrata nel cortile Sei proprio un birbante Va bene Vai Vai Go Ui dai ti prego C'è il buco Entra nel buchino Dai ti prego È trigo porca miseria Boom Sangue che scola Ossa di cane Va bene è morto Forse lo devi chiamare indietro Non lo so Non me lo ricordo Lasciamolo stare un po' lì Lasciamolo stare lì E quindi? E quindi? Anche però Eh ma forse ti serve Perché è un'altra parte Eh sì Allora ok Poi voglio vedere se si scende in una stanza segreta da qua O se si muore brutalmente Va bene Va bene Io e Io e Aumentiamo il peso Mi prendete il culo Perché è così complicato Vabbè è programmato per non andarci Sto cagone Ha un muro invisibile Hai un muro invisibile Sai che non ci sta No Dovevi spiegarmelo Non fargliela chiudi i comandi Perché non serve Lui abbaia e agisce Non glielo puoi cancellare No No adesso appare il tipo Vabbè vabbè Lasciò apparire C'è una bilancia Neanche le si interessa ormai Non le interessa neanche guardarlo il microscopio E neanche il mappamondo Però c'è un fiorellino che brilla qua Pietra urlante Vabbè E' uno shortcut Ma che A chiave dall'altro lato E' qua da dove eri arrivato Si Però sei sicuro hai fatto tutte le strade In là Dici di qua Di qua Sì Vabbè vedere Sì Di qua sì Mi ci sono scale Già fatto Guarda abbiamo il cane da qualche parte Vediamo O no Quindi però c'è l'altra strada Va bene No è purtroppo Eh che serve Per il palo Fare il rumore E farti impanicare Aspetta No 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 Sono Sono vulnerabili Devo forza Prendere No no Non puoi uccidere Però Questo era su un cerchio alchimico Sarà importantissimo No t'ha visto T'ha visto Si si apisce dalla musica Quando ti ha visto Si lo so Ma è un tempio Con le torce Dite la porta Dite la porta Dice? Eh si Si ma per fortuna Lui non ha La minima capacità Di mirare Piano No 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 Stai giù Dove sta l'impazienza Eh beh il gioco è anche quello No ti ha visto Eh lo so ma solo perché si è girato per sfriga Che tu quando lo fai passare vai avanti Cioè vai a esplorare Non puoi stare sempre dieci minuti Ma la stanza era nuova Eh ma io devo esplorare davanti Si ma magari la stanza era quella giusta Non esiste la stanza giusta nell'esplorazione Invece si No devi guardare tutto Si c'è un ordine di cose da fare Così si è tornato indietro Ho capito Non potevo saperlo Come no La stanza è quella Ho capito Non sapevo che fosse uno shortcut L'ho scoperto quando ho sbloccato la porta Una volta che l'hai capito È inutile che ti chiudi la porta dietro Perché dovrai comunque tornare in via Ma mi sta inseguendo quindi Prendo un po' più di tempo per nascondermi Affinché lui si degagri Oh Da un calcio tra l'altro Ma no È delicato Ci tiene No non ci tiene al castello Se va così lontano Non è che devo aspettare Che la musica cambi Ne vado Si se corri fai rumore però Vabbè Eccoci Sento passi che si avvicinano Ok Ora abbiamo completamente rimosso una strada Prima saliamo Il tempio oscuro Con le torce magiche Oh Merda Cioè Sangue Aspetta signore Oh il cane è qua È in una stanza nascosta Si Attenzione Ammate Abbiamo sbloccato una cosa terribile Si poi comunque se facevi il giro Vedevi Eh certo Long live the king E ci chiude fuori No Che carino Vediamo anche altre strade adesso Ancora più strade da esplorare Qui ci saranno altri acidi E un'altra macchina Forse qua non può entrare Caio Vabbè Ormai Abbiamo il set Omega weapon Purificatore L'impura Massaggio All'astra Il sudiciume Libererà la gloria Splendente Mazza Che palle Sarà alla fine di sto gioco Vanno fare il zig zag Tra i quattro affari Mediante il battesimo rituale Mettete la prova con la sintesi La fase successiva del grande processo Non ho molta voglia Mettermi alla prova Con la sintesi Forse il semplice fatto che la porta fosse chiusa Chiave vuol dire che qualcuno non vuole scocciatori in questa stanza Deve esserci qualcosa di molto importante Shortcut No Non è un shortcut L'avevo già visto No era short Sembrerebbe un shortcut Oltre alla stanza Guarda la porta Se ci sei già stato Eh infatti No è un vicolo cieco Non è un shortcut Figo Minchia abbiamo altre due strade Completamente oscure Nuovissime 8 ore di gioco Wow Alla fine Siamo andati Molto avanti Molto avanti Adesso hai incontrato Il cane È diventato nero Hai Adesso hai Il buon Riccardo Che non vede l'ora Di fare la tua conoscenza Hai visto che non ha Assolutamente Cattive intenzioni Nel momento in cui Sì sì Lui è santo Lui vuole assolutamente Aiutarti Soprattutto quando ti ha puntato La pistola in fronte Sì Per finta però Perché alla fine La sua minaccia era Abbastanza vuota Mi sono Si è spostata Se ne è andata Sì Puoi ben immaginare Che insomma Non ci sono molto presenti Cioè non sono molto Normali Che le persone di questo Di questo posto E niente Quindi Io vi ringrazio Per aver partecipato Siete stati tantissimi Guarda quanti sono Sì infatti Grazie per il supporto Se vi vanno Ci vediamo alle 14.45 Per provare insieme Per un'oretta E qualcosa La demo del gioco musicale Di Final Fantasy Quella Tiettem Non so come si pronuncia Mi chiedo scusa Non so neanche come si scrive Final Bar Comunque Mentre tu hai la Maratona finale Penso di Massimo Vediamo un po' Che finale Arriverà Grazie a tutti A più tardi A presto Oppure ci vediamo Insomma Alla prossima Grazie mille Alla prossima Grazie a tutti